Ciao a tutti ragazzi e bentornati ancora una volta sul canale YouTube di Bicisport. Oggi andremo ad analizzare la quinta bicicletta delle 18 del circuito World Tour, ovvero la Colnago V3RS della UAE Team Emirates. Un mezzo molto particolare italiano, infatti il Team Emirates si è affidato ad uno dei produttori storici di biciclette del panorama internazionale. La V3RS è realizzata attraverso un telaio monoscocca, quindi un unico pezzo di carbonio. La V3RS di Colnago è una bicicletta completa, competitiva sulle lunghe salite, in piano anche in condizioni di forte vento, perfetta per i grandi giri o per le corse di un giorno molto impegnative. Tutte queste qualità sono il frutto dell'esperienza maturata da Colnago prima con la V1R e successivamente con la V2R. Grazie a questa costante ricerca e a questo costante sviluppo, Colnago è riuscito a migliorare i concetti di leggerezza e aerodinamica del nuovo telaio V3RS. Il telaio della V3RS è un telaio molto leggero, 790 grammi in taglia S, in versione disc e nella modalità, diciamo così, grezza. Tutta questa leggerezza non è però a scapito della rigidità, grazie all'utilizzo di un nuovo tipo di fibra di carbonio che riesce a dare una rigidità superiore al modello precedente di circa il 12% e ovviamente è migliorata anche la capacità di assorbire maggiormente gli urti verticali. La forcella della V3RS è molto più leggera se comparata a quella della V2R e pesa soltanto 390 grammi. Un grande lavoro di riduzione del peso è stato fatto nella zona del reggisella, dove il sistema di serraggio del tubo reggisella è stato ancor più miniaturizzato per ridurre il peso. A questo punto andiamo a vedere come è stata allestita la Colnago V3RS del team Emirates, con un gruppo completo Campagnolo Super Record 12, velocità, impianto frenante a disco idraulico con rotore anteriore da 160 mm e posteriore da 140 mm, ruote a medio profilo Bora WTO da 45 mm di altezza, ovviamente queste ruote possono cambiare al variare delle caratteristiche della tappa, coperture Pirelli P0, manubrio e attacco manubrio sono un unico pezzo integrato Deda alla nera, che aiuta ad integrare perfettamente tutto il cablaggio del sistema frenante, tubo reggisella proprietario di Colnago in carbonio, alla cui estremità è posta la sella Prologo. Completa l'allestimento di questa fantastica bicicletta una coppia di pedali Look. Ok ragazzi, a questo punto direi che è tutto, noi come sempre ci vediamo al prossimo video, buon allenamento e alla prossima, ciao!